Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TG Music. Mandiamo subito in onda un servizio della nostra inviata che è in collegamento con noi. Sa, sa, prova. Sei in onda? Sì, eccoci. Ci troviamo in via Poma numero 4 davanti alla nuova scuola di musica. Andiamo a vedere cosa succede. Eccoci con la direttrice della scuola, Marianna Filippini. Che cosa vuole dire ai nostri telespettatori? I nostri corsi riprenderanno regolarmente lunedì 13 settembre nella sede di Mantua. Vi aspettiamo per un nuovo anno insieme. La ringrazio, dottoressa Filippini. Allora non ci resta altro che andare a fare un giro per la scuola. La ringrazio, dottoressa Filippini. La ringrazio, dottoressa Filippini. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ricordiamo che il Tiz Music vi aspetta alla prossima edizione Buona giornata